buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale oggi andremo a fare l'ultima escursione in bicicletta dell'anno 31 dicembre 2022 si parte venite con me a topo è un po' sclamo pronti ragazzi vi porterò in un posto fantastico 3 2 1 e voilà e 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 A tutta birra, cibo a tutta birra Bir sonraki videoda görüşmek üzere 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 Bir sonraki videoda görüşmek üzere